Apriamo questa nuova edizione di Cronaca Verde con una notizia che riguarda le città green. È stata infatti pubblicata una nuova classifica, il Green City Index, che colloca Roma tra le dieci città più verde del mondo per estensione di verde urbano a disposizione di ciascun abitante. Per contrappasso, tuttavia, Roma non è la città che investe di più sul proprio verde perché la classifica che riguarda gli investimenti sul verde urbano vede in Italia Venezia in prima posizione con una spesa pro capite di oltre 50 euro. Anche Milano cerca di ampliare il proprio verde e di trasformarsi e di recente il Consiglio Comunale della città ha approvato all'unanimità un progetto che prevede la trasformazione del cavalcavia di Monteceneri in un nuovo parco lineare sulla scorta di quelli di New York e di Seattle, quindi uno spazio verde interamente dedicato a pedoni e ciclisti. E tra le capitali europee che investono sul futuro verde dei propri parchi c'è anche Parigi che recentemente ha avviato i lavori per l'orto urbano più grande del mondo che si troverà sul tetto di un palazzo di una fiera alle porte della città e sarà grande ben 14.000 metri quadri, interamente coltivato con metodi innovativi che non prevedono l'uso della terra. Infine arriva da Imperia l'invito a trasformare il Natale per cui ormai è iniziato il conto alla rovescia in un'occasione per valorizzare proprio il verde della città regalando non regali qualsiasi ma donando proprio alberi, quindi donando verde. Per oggi è tutto, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.